Cari amici, in questo speciale ci troviamo a Milano per guidarvi all'interno del Salone Internazionale del Motociclo. Benvenuti a tutti alla settantesima edizione di EICMA. Una grande fiera e un grande show che ogni anno riesce a rinnovarsi e a incuriosire, attirando nei suoi mensi impadiglioni, aziende leader e protagonisti del mercato su due ruote. Ciao e benvenuti a EICMA 2012. Ma come sappiamo, a EICMA è il pubblico il vero protagonista. Con le loro passioni, i loro desideri, la voglia inarrestabile di affermare la propria personalità, animano e affollano ogni spazio per ammirare l'esposizione e non solo. EICMA è un salone dalle molte facce che appaga ogni aspetto del vasto mondo delle due ruote, raccontando in maniera capillare tutti i settori che lo animano. Moto di ogni genere, per ogni rider. Accessori sempre originali, belli e performanti. Abbigliamento e gadget per ogni stile. Non a caso, quando parliamo di moto, utilizziamo il termine mondo. Ci piace infatti ricordare che non esiste solo il MotoGP. A partire dagli scooter o dalle minimoto, fino ad arrivare alle cilindrate più potenti, c'è un'incredibile scelta e vastità di mezzi. Moto da sport e moto da turismo, che muovono gente, che muovono mercati, ma che soprattutto creano passioni e aiutano la formazione di un'individuale personalità. Una moto, qualsiasi e sassiasi, guida con tutto il corpo. E accade sempre che questo impegno, poco dopo, coinvolga il cuore e lo spirito. Viaggi selvaggi, nuove amicizie, nuove valori e nuove aspettative, incredibili sfide. Una moto può veramente trasformarsi in un veicolo in grado di spostare l'anima verso nuovi orizzonti. Ciao, ciao a Biker Explorer, spero che ti sia benvenuto. Poi seguite Tom Sykes e Kawasaki, grazie. Questo è il fascino di una fiera così completa come ECMA, dove gli oggetti del desiderio vengono spesso accompagnati da piloti e da campioni che dalle moto hanno dato e ricevuto tutto. Grande Vito, a Bombazza! Ma la moto è in movimento allo stato puro, quindi oltre alla bellissima esposizione, la vera anima della fiera si scatena con Moto Live, dove si libera tutta l'adrenalina degli show e delle competizioni. FACE THE PARTY CRASH BITCH FACE THE PARTY CRASH Moto Live compie 8 anni e prevede un fitto calendario di appuntamenti, tra cui la gara internazionale di quad e di supermodo. La finale del campionato europeo di supercross e ancora motocross freestyle, trial acrobatico, esibizioni e spettacolo puro con stuntman d'eccezione. Welcome to Moto Live! D'anni vi facciamo vedere che cos'è Moto Live, finalmente abbiamo il volto di chi cura questo grande contenitore adrenalinico. Abbiamo con noi Giacomo Casartelli. Giacomo, tanta adrenalina, tanto divertimento, spettacoli. Quest'anno addirittura abbiamo anche la finale dell'europeo di supercross. Sì, assolutamente. È un onore per noi poter ospitare per la prima volta la finale del campionato europeo di supercross, SX Series. Per questa gentile concessione devo ringraziare sicuramente Alfredo Lenzoni e Offroad Pro Racing tutta per aver creduto ancora una volta in noi. Tengo a precisare che tutto questo, tutto ciò che rappresenta Moto Live è il frutto di un anno di lavoro grazie ad una squadra, ad uno staff incredibile che non smetterò mai di ringraziare. E chiaramente grazie a ECMA che continua a investire in questo tipo di area che non ha precedenti come ben sapete voi amici a livello internazionale. Bene Giacomo, continuate così, alla grande. Il numero è il 222, il nome lo dico io e con i nomi a voi, Doni! Tony, innanzitutto complimenti. Se i titoli mondiali iniziano ad essere importanti, ad avere un loro peso. Sì, sono importanti. Una carriera che sta migliorando anno dopo anno. Speriamo di continuare così, di trovare una stagione perfetta. Magari senza tanti su e giù, come quest'anno è successo, abbiamo avuto un calo verso metà stagione, poi abbiamo però ristabilito le distanze. Speriamo l'anno prossimo di partire ancora più cariche e mantenere una costanza tutto l'anno. Il cross è una disciplina spettacolare, fisica. In Italia costruiamo bellissime moto per questo, in più abbiamo anche un territorio che si presta. Come mai abbiamo l'impressione che non ci sia la giusta considerazione da parte dei media generalisti verso questo sport? Cioè abbiamo il pilota, abbiamo la moto, abbiamo il territorio? Ma purtroppo in Italia un po' il problema è quello che è un po' tutta l'Europa al momento, diciamo, quello del calcio che spopola in lungo e in largo. Purtroppo lascia poco spazio al resto, diciamo, degli sport. Però speriamo con la costanza dei risultati premierà e un giorno avremo il riscontro che meritiamo. Ecco, speriamo di averlo presto. Tu per un periodo dell'anno vivi nel nord Europa, dove c'è una cultura molto più radicata del cross. È vero che riesci ad allenarti meglio su terreni più sabbiosi? Sì, anche come hai detto te c'è una cultura più bassa lì del cross, è uno sport più considerato, quindi ci sono tanti più tracciati, tanti più posti dove allenarsi. E quindi durante la stagione siamo là e ci spostiamo da lì, ecco, con i vari spostamenti. Secondo te è possibile per un pilota, per un giovane, crescere in questa disciplina oggi in Italia? Dico oggi, dopo Cairoli, dopo la tua esperienza? Io lo spero, sinceramente non vedo un ricambio tanto, diciamo, al più presto. Non ci sono tantissimi giovani che stanno crescendo, diciamo, dal mini cross. Speriamo mi sbagli, ecco, che tra qualche anno esca fuori qualcuno, perché veramente l'Italia ha bisogno, specialmente dei piloti in MX2, che siamo un po' carenti. So che adesso ti lancerai in una nuova avventura, ti sentiremo per radio con Ringo su Virgin Radio. Possiamo dire che è il Cross & Rock? Ma, sicuramente, il Cross & Rock, speriamo di, per i pochi appassionati che c'erano, diciamo, prima, speriamo di aumentarli ancora di più con questa, diciamo, con questa cosa della radio, con Virgin Radio, con questa collaborazione, che li possiamo tenere più a contatto possibile. Io ti do un consiglio per un nome per una trasmissione radiofonica, Cross & Rock sarebbe carino? Cross & Rock, sì, si abbina bene, quindi speriamo, magari Ringo prenderà spunto e farà qualcosa del genere. Perché no, perché no? Grazie, gentilissimo come sempre. Fantasia, creatività e grande manualità. Tutto questo è EICMA Custom. Colore Custom è tanto Rock per un EICMA Custom che spacca, Ringo. Ma l'EICMA è un passaggio doveroso per Milano in questo periodo perché, anche internazionale, vengono a tutto il mondo a far vedere le proprie moto, i propri prodotti, poi trovano degli scarichi, bulloni, motorini, biciclettine, monopattini elettrici, c'è di tutto. E poi ci sono, vabbè, c'è quello che concerne l'agglomerato di questa fiera che è enorme, con tante belle ragazze, tanta energia, le feste, gli eventi che sono creati in città, perché EICMA non è poi soltanto qui. Esatto, diciamolo, ci sono tante feste ogni sera, quindi... Sì, di fatti... Una festa a 360 gradi. Secondo te perché ho gli occhiali? Eh, perché lo sappiamo io e te, no? L'abbiamo fatto tardi. Eh? Possiamo dire... No, sì, le due stanotte, però sai, dalle nove di mattina qua, fisso, ti trovi puoi mettere i dischi alle feste, molle alle due di notte, il tempo di... di mettere... se c'è lo sveglio per la nuova mattinata in... all'EICMA? Sì, sì, sì... E insomma, però, vabbè, dai, si fa... Però dai, c'è un bel movimento, no? Ci si diverte, soprattutto quello importante. E poi tante iniziative qui nel custom, perché quest'anno abbiamo tante belle donne, cioè Miss Spin Up, un'iniziativa creata, infatti, insieme a Virgil Radio. C'è Deliscio Spin Up, un contest per queste ragazze che hanno mandato foto, servizi fotografici che hanno fatto in pura veste burlesca, anni 50, anni 40, e qui ci sarà la finale, decideremo, decideremo, sarà anche il pubblico, quindi, quale saranno le ragazze che andranno nel calendario e la vincitrice. Ci saranno degli spettacoli burleschi, anche qua sul palco, insomma, tra fuori i Motolive, dove ci sono i colleghi, ciao colleghi, e dentro noi qua, penso che ci sia un bello spettacolo all'EICMA. Ciao a tutti gli amici di Biker Explorer, sono Max Pezzali, ciao a tutti. e adesso vedremo qui sul palco le moto da tutto il mondo, più belle, o una decine se ama una cumulata, però parliamo di custom, dei grandi professionisti della customizzazione, giusto? Esatto, dei grandi professionisti provenienti da tutte le parti d'Europa, e abbiamo appunto chiamato la giuria internazionale, sia italiana, austratiana, giapponese, insomma abbiamo... quindi dal Giappone, dal Giappone, dal Giappone, si parla di altri continenti, allora io vi lascio... Allora vince il secondo International EICMA Custom Bike Show, la moto numero 3, 103, 103... Ciao, sono Max Pezzali, benvenuti ad EICMA Custom. Max, finalmente possiamo dire che il custom diventa internazionale Il custom soprattutto si apre a un mondo, cioè a un pubblico generalista in qualche modo esce dalle fiere di settore ed entra in un contesto come l'ECMA che si rivolge a un pubblico motociclistico generalista quindi di tutte le marche e di tutti gli stili motociclistici e credo che per chi non lo conosceva sia stata una grande sorpresa il mondo del custom cioè si capisce che qui non si sta parlando di luoghi comuni, moto customizzate eccetera eccetera ma di un gusto estetico che può essere utile anche alle altre motociclette Mi sembra di capire che tu conosci benissimo gli Abnormal Cycle che loro hanno vinto anche quest'anno per la seconda volta alla Best in Show hanno una moto da preparare e tu sai già che cosa probabilmente verrà fuori Il discorso è che la loro moto che è stata premiata quest'anno è una delle moto più belle notoriamente di tutto il settore custom non solo italiano, se stiamo parlando di una board tracker che erano le motociclette che correvano quelle specie di velodromi all'inizio del secolo scorso è fatta con un gusto incredibile da un motore credo dell'inizio del secolo scorso 1918-19, una moto che è molto conosciuta nell'ambiente come una delle più belle mai realizzate Sicuramente con la mano che hanno la Moto Guzzi che hanno vinto come premio per questa Best in Show verrà da loro trasformata per l'anno prossimo in qualcosa di sicuramente mai visto prima e credo che oggi ci sia bisogno come non mai di ottime idee, di nuove idee, di buone idee nel mondo delle due ruote che forse proprio dal mondo del custom possono arrivare più facilmente il mondo del custom ha un grosso rispetto del passato e quindi solo se rispetti la cultura motociclistica del passato puoi creare qualcosa di nuovo e di bello per il futuro quando cominci a stravolgere troppo le forme motociclistiche facendole diventare qualcos'altro quando vuoi far assomigliare una moto a un robot lì stacchi un po' il pubblico, lì non vai incontro ai gusti del pubblico, anzi forse lo annoi grazie mille Max quello che abbiamo cercato di fare con Andrea è una moto che sia un prodotto trasversale che in questo momento sul mercato non esiste in sostanza, che è un prodotto che riprende gli schemi del passato quindi il bicilindico sulla quale si è costruita la storia della moto sul quale andiamo ad applicare con dei criteri moderni una scocca e degli elementi che la rendono più raccia e quindi un prodotto più dinamico e diverso da quelli che si trovano attualmente sul mercato ciao Marco, come ti sono? bene, come ti sono? molto bene, molto bene Marco, puoi presentare le moto che hai portato qui a EICMA SHOW? ok, abbiamo fatto un po' di bici qui a EICMA SHOW e tutti questi sono nuovi che abbiamo già costruito per il nostro show e il grigio è la benchmarkta questo è davvero il nostro faggianto al momento perché a questa bicicletta abbiamo chiesto tutti i componenti di nostra nuova produzione quindi il livello qui sul show è molto alto, ovviamente ma non c'è nulla a farlo perché abbiamo già il polsetter per molti anni che significa qualità e design quindi ci sono molti follower e copyshop che copiano il nostro style quindi riguardo la qualità non ho nessuno sono super gasato, sono qui a Lakeman in una fiera che fa un bordello della Madonna ti stavo dicendo che non mi piace questa fiera perché io sono sincero perché io amo la tranquillità mi piace stare rinchiusa a bere la minestrina e starmene bravo ma io questo non ci credo proprio per niente a bere la minestrina proprio non ti ci vedo no ma ti giuro io invece mangio minestrina minestrone, petto di pollo, riso, bresaula sono una noia te lo giuro senti invece cosa stai facendo ora? adesso sto lavorando a un nuovo Guinness World Record ho abbattuto il Guinness World Record della torre più alta al mondo qualcuno di voi l'ha visto e adesso sto preparando quello che forse mi impegnerà di più mi darà più emozione è un'altra montagna dopo non aver avuto dopo che non ho avuto i permessi dell'Everest sto preparando un'altra montagna più accessibile non minore ma tecnicamente più difficile dunque sono in piena preparazione per quello ti dico che il casino ci sta va bene un bagno di folla a gasarsi ma la mia testa è molto concentrata per questo Guinness molto molto pericoloso lo farò qui in Europa è una montagna europea ma si può dire? no ma non lo dico per scaramanzia perché l'altra volta ho gasato per l'Everest purtroppo mi hanno levato i permessi e ahimè ho rispettato quella decisione del governo nepalese di stare giù di non uscire e i soldi che ho versato essendo un atto povero non me ne frega niente so che i soldi che sono andati a quella nazione che amo il Nepal serviranno a qualcosa qualche progetto penso anche che i bimbi potranno godere di quella cifra che si aggira intorno ai 100 mila euro da parte mia e 110 da parte del regista del film sono 210 mila euro con 210 mila euro sapete quante scuole ci realizzano? io me ne batto il Belin e ne farò sempre di più e l'importante è chiunque di voi abbia successo moto, calcio, basket bilanciate sempre la bilancia fate si che il piatto destro sia a livello di quello sinistro perché quando vai troppo in alto poi succede qualcosa e allora se ricevi cerca di dare so che sono una palla però ve lo dice 100% Promotti grande Vito a Bombazza ciao Gianni di Vallese Garage qui a Dekma Custom allora Gianni vedo che hai portato una bellissima bagger infatti vogliamo dirlo vedo che sottolineato che qua ormai sei diventato Vallese bagger sei specializzato in questo si beh stiamo creando una nostra linea che praticamente parte per quanto riguarda tutta la linea della carrozzeria della motocicletta a quello che sono anche particolari poi meccanici come sono pedane particolari in manopole eccetera e via dicendo comunque ecco la nostra cosa principale è creare per quanto riguarda dalle borse parafanghi fiancatine coperture serbatoio cioè varie cose poi creiamo comunque su ogni motocicletta in particolare se parliamo di modifiche cioè trasformazioni come questa moto che sono molto radicali creiamo anche pezzi unici cioè materiali che poi utilizzeremo solo per questa moto e sono cose che comunque il cliente ci chiede stesso Giorgio Sandi di Headbanger uno degli stand più colorati e ammirati di ECMA Custom Giorgio tanto colore, tante belle moto, tante belle ragazze stile gipsy Sì, noi per forza siamo un mondo vivo e cerchiamo di renderlo vivo con tutto quello che facciamo quest'anno abbiamo tante belle cose nuove e abbiamo penso fatto un bel passo avanti ulteriore nel cercare di dar vita ai sogni di un appassionato di moto degli anni 60-70 come se uno rinascesse ragazzo di quell'epoca e avesse la voglia di avere la moto che ha sognato quando era ragazzino e questo sogno continua con i modelli della versione 2013 abbiamo fatto tante nuove verniciature ancora più gipsy, c'è tanto metal plate, ci sono tante verniciature colorate ci sono lavori che abbiamo fatto anche sulle verniciature delle moto più tradizionali, più semplici c'è una versione Oxide che io trovo bellissima della nostra Hollister c'è una nuovissima versione della Foxy Lady ancora più elegante che noi chiamiamo Champagne insomma ci sono tante versioni nuove abbiamo tutte le moto hanno motorizzazione SNS abbiamo fatto un accordo ancora più importante e credo che quella sia un motivo di soddisfazione per noi e anche per SNS di lavorare con un produttore abbiamo ideato un nuovo telaio rigido che è una vera novità perché il rigido è sempre stato considerato un telaio scomodo e superato dalla tecnologia invece noi abbiamo lavorato sulla forma del telaio e su come farlo lavorare e non hai idea di quanto sia comodo infatti io ci sono seduto adesso sopra però è andando per strada è un telaio che ha la capacità di sedurre chiede la moto attaccata alla strada non è dura sulle asperità perché lavora bene la sella a molle e lavora proprio la geometria del telaio per fare funzionare al meglio proprio la comodità e il comfort di viaggio quindi è una moto attaccata alla strada e contemporaneamente comoda che è il massimo per un appassionato mi piace perché trasmetti proprio questo entusiasmo come se tu parlassi proprio dei giochi sono come dei giochi per te queste moto sono i giochi di tutti cioè io quello che sogno è che la gente le possa provare lo scopo nostro è che la gente le provi e si faccia un'opinione personale probabilmente a qualcuno non piaceranno e pazienza, non è colpa loro, non è colpa nostra io voglio che quelli a cui piacciono si rinnamorino e non possano più vivere senza ma non è colpa loro 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 io voglio che mi faccia un'opinione Comando, sto andando forte già. Ok, parte serrata, Riccio. E c'è terzo, Alvaro Alfaro, attaccatore da Giacomino Redotti. Inversazione mondiale di un'altra. E' conto, è conto, è conto, è la caduta di Bersergeria. Riccio, Alvaro Alfaro, nessun problema, è conto. E' conto, è conto. Oh yeah. Oh yeah. Oh, da tutto quello. Dai, grazie. Mi sono scivolato, l'asso davanti a questo posizione. Va bene. Alvini! Trovano la doppiana all'interno. La scicanna. E ora sul. In campo. Oh yeah. Il bambino. Oh yeah. Il bambino. E ora sul. Il bambino. Il bambino. Oh yeah. datSpace. uss. E' a lunga. Montantini, non molla. Gustavoo, divins numero uno. Amerigo, Ventura,owaće classic Subirini. qui è Francesco Cagliari, direttore qua in mezzo al palco buongiorno a tutti allora, questo è un direttore, un motociclista tutto questo grazie a lui, grazie davvero grazie di questo spettacolo di EGMA settantesima edizione, ottima edizione motore beh, innanzitutto bisogna dire grazie a loro grazie a tutti quelli che vengono perché senza di loro lo spettacolo non è successo quindi grazie, veramente grazie a farla da corona allora, la tonica e l'olio di Colocano a tutti voi, grazie perché questa EGMA forfice ha uno scopo preciso e c'è una cosa da consigliare da parte del direttore Francesco Cagliari è l'assegno che fa la fondazione portiamo qua l'assegno, per favore abbiamo, credo, raccolto, grazie a voi 10.000 euro consegnata e noi consegnata e le vengono le vengono le vengono consegnano questa soffra e la teniamo qui la abbracciamola naturalmente chiamiamo quella fondazione Kate, vieni Kate è qua, la accogliamo con un applauso allora, la fondazione si sta muovendo su tantissimi piani e quindi complimenti cosa state facendo le cose immediate sulle quali siete impegnati abbiamo accogliato 200.000 euro alla fondazione Francesca Scarao di Milano che è l'ufficio italiano dell'UNPH per costruire un centro di urni per urni visabili come il centro di fisioterapia che accoglierà 30 urni di urni ottimo, allora insieme a questa fondazione avete già pensato di devolvere anche questa cincera in un'altra associazione con un'altra iniziativa? esatto, questi 10.000 euro invece non andranno alla fondazione Francesca Rava ma in parte a Paolo costruirà il primo del Marano, un albergo che diventerà il centro di ultimo per urni visabili in provincia di Esamini a questo punto la consegna un po' di ancora noturamente la consegna dell'assegno è per festeggiare Etna for Switch direi di far partire l'inno di Mamelia suggerirà questa grande iniziativa da questa edizione speciale di EICMA è davvero tutto ci vediamo alla prossima mi raccomando intanto continuate a seguirci su bikerexplorer.tv Grazie a tutti Grazie a tutti